Un ampio squarcio sulla storia vitivinicola del Friuli Venezia Giulia con un accenno particolare ai periodi finora rimasti in ombra ed un approfondimento su alcune attività collaterali che oggi si possono classificare sotto la voce indotto. E' stato presentato Storia della vite del vino in Friuli a Trieste, un volume curato da Enos Costantini pubblicato dall'editrice universitaria udinese Forum. 120 anni fa le viti si arrampicavano sugli alberi come ai tempi della Roma imperiale. 60 anni fa la viticultura promiscua era ancora prevalente rispetto a quella specializzata. In regione si beveva il doppio di quanto si produceva, oggi si esporta metà di quanto si produce. Il libro, realizzato con la collaborazione dell'Accademia Italiana della vite e del vino, racconta tutto ciò in una vicenda in continua evoluzione e per la prima volta presenta la storia vitivinicola di Trieste con un saggio che si dipana, secolo dopo secolo, dal carso al mare.